buongiorno ragazze oggi venerdì 13 e quindi sfatiamo questa diceria che il venerdì 13 porta male tempo buonino mare splendido io intravedo ustica una lavatrice stesa bene ragazze il rosso che sui divani non mi abbandona e non voglio abbandonare perché mi piace tantissimo è bello il bianco e il rosso è un'accoppiata vincente sempre nell'abbigliamento nell'arredamento nelle composizioni di fiori in tutto bianco e rosso top allora ragazze oggi è una giornata un po così allora sono le 11 e 35 quasi le 12 meno 20 stamattina mi sono alzata un pochino più tardi intorno le 9 e però poi una serie di telefonate mi ha fatto così perdere un po il ritmo di fatti ancora devo fare il bagno ho fatto solamente la camera da letto al solito il giaccone è pronto per andare in palestra quindi è inutile appenderlo e al solito rassettato un po tutto qui c'è maia buongiorno vita mia e corre allora ragazze niente appunto devo fare il bagno ho fatto la cucina al solito l'ho definita perché mio marito per ora mi fa i piatti anche se io non voglio mi arrabbio però lui mi fa i piatti quindi ho definito un poco piano cottura lavello lo devo asciugare mi sto preparando però già pranzo il minestrone questo minestrone di verdure perché vedo che come dire i legumi insomma fanno bene dicono sempre appunto di mangiare verdure quindi l'avevo nel freezer e l'ho preso l'ho tirato fuori però ancora non posso iniziare a cuocerlo perché mi manca la cipolla ora vi spiego perché io il minestrone lo faccio così allora metto una bella cipolla la faccio faccio un soffritto non troppo fritto un soffritto leggero e poi appunto metto il minestrone e lo faccio un po dorare e solo dopo che il minestrone sia un po tostato dorato a quel punto aggiungo io di mio ci metto un po di pomodoro di passata di pomodoro quello della bottiglia e alcune volte aggiungo pure un paio di patate e viene un minestrone ricchissimo tra l'altro io poi così come faccio con le lenticchie do una frullata col frullatore a immersione quindi ragazze mi viene un minestrone così cremoso così ricco da leccarsi veramente non i baffi ma le orecchie poi quando appunto l'ho impiatto metto un po d'olio d'oliva a crudo e in più metto il formaggio ragazze ma che ve lo dico a fare mi viene un minestrone niente che è una cosa eccezionale perché ho inquadrato la vetrina così perché la vetrina ce l'ho proprio qua ed è siccome è molto molto carina l'ho inquadrata allora vi stavo dicendo che oggi è una giornata un po così perché appunto ci sono state un paio di telefonate che mi hanno fatto un po così ritardare appunto nel mio percorso mattutino di pulizie e cose varie e niente ho parlato con una persona di un di un argomento che mi ha lasciata un po così un po basita perché si parlava con questa persona che naturalmente ha tutta la mia fiducia tutta la mia ammirazione e tutto quanto perché è una persona particolare appunto con questa persona abbiamo parlato di presenze presenze che possono esserci in una casa e niente mi ha raccontato degli episodi che mi hanno lasciata un po così un po basita anche eventi che ha proprio vissuto questa persona in prima persona e quindi diciamo che è stata una telefonata un po così poi nel frattempo giustamente ne ho parlato con mio marito poi invece c'è stata la chiamata di mia figlia che mi ha raccontato di ulteriori sviluppi per quanto riguarda il suo evento e quindi diciamo che mi sono un po sviata e quindi non mi va più neanche tanto di fare chissà che anche perché oggi avrei voluto fare metà del lavoro che di solito faccio il sabato quindi che ne so oggi potevo farmi la zona notte e così domani mi facevo la zona giorno però ricordatevi nel frattempo maia corre come una pazza ricordatevi che io martedì o mercoledì non ricordo quando forse martedì mi sono fatta tutta la casa perché non ero riuscita a farla sabato scorso e neppure domenica quindi praticamente io ho fatto tutta la casa mi pare martedì sì forse martedì è stato il giorno in cui non sono andata in palestra nel pomeriggio poi vi ho registrato un bel po di video i capelli il trucco insomma vi ho registrato un po di cose e quindi non vale la pena farmi oggi mezza casa domani è sabato a quel punto domani do una pulita ok quindi ora necessariamente vado a fare il bagno per quanto riguarda la palestra sono un po indecisa perché avrei bisogno assolutamente di uno shampoo quindi mi viene pure come dire la voglia di farmi lo shampoo prima di andare in palestra però poi torno con i capelli tutti sudati non mi sembra il caso però sono in una condizione un po indecente poi per quanto riguarda il mal d'orecchio il mal d'orecchio un po continua nell'altro appunto l'ho avuto prima l'ho avuto nel sinistro ora ce l'ho nel destro e devo dire che un po quest'influenza che ho avuto nel periodo natalizio mi sta dando appunto degli strascichi ancora perché appunto adesso il mal d'orecchio è passato dall'altro lato al mattino mi sveglio con un po di voce bassa come se fossi sempre raffreddata sempre un tantino di tosse sempre un po la come dire sempre un po di voce così rauca quindi ancora sono strascichi e poi tra l'altro niente non me ne posso uscire perché sempre di ritorno dalla palestra anche ieri ragazze sudata è il freddo proprio l'aria fredda che ve lo dico a fare proprio aria fredda e quindi sudore e aria fredda viene fuori giustamente questa specie di raffreddore di cui non mi posso liberare e non mi posso neanche liberare di questa signorina ma quanto è bella questa signorina maia diglielo che non c'è non esiste solo belen gervasi la gatta di luca gervasi è vero amore tu sei anche più bella dai diciamolo diciamolo che forse tu sei anche più bella amore mio sei tu amore mio che stanotte mi è salita sopra sulle spalle e mi ha ricordato bianca bianca gioia mia lo faceva sempre bianca stava sopra di me se io ero a pancia in aria lei si metteva sulla mia pancia se ero di spalle si metteva sulle spalle bianca era la mia ombra era appiccicata sempre a me come un francobollo e lei appunto stanotte mi ha un po ricordato lei vero amore va bene ragazze devo andare a fare il bagno perché mi sto perdendo in chiacchiere oggi voglio fare tutta la doccia con lo spray ecco qua con questo io questo non lo utilizzo ogni giorno anche perché non ce n'è motivo però così un paio di volte a settimana lo utilizzo ok un pochino qua sui rubinetti e niente e quindi che faccio vado in palestra ragazze non lo so neppure io ci vado di pomeriggio prima mi faccio la doccia o ci vado ora con questi capelli indecenti non lo so non lo so come si dice questo è un dubbio amletico dico vale la pena farmi lo shampoo e poi andare in palestra e poi torno appunto con i capelli sudati li devo asciugare oppure a questo punto vado in palestra così in condizioni pietose e poi mi faccio lo shampoo va bene lo scopriremo solo vivendo ora da vedete il minestrone a modo mio allora ho aggiunto una cipolla due patate piccole e poi ho messo mezza lattina di questo pomì poi potete mettere salsa questo è un pelato pomodori a cubetti ma io la metto metto aggiungo sempre un po di pomodoro di salsa di pelato perché non mi piace il minestrone bianco quindi mi piace che sia un pochino colorato e quindi aggiungo un po di pomodoro però ragazze vi devo dire che è buono perché oltre a dare il colore giustamente e da anche un buon sapore ok allora io ho appena finito il bagno ho passato lo straccio e non faccio più niente a parte della una passata in cucina perché mio marito sta arrivando è andato a comprare le scatolette per maia per questa birbante io ho detto appunto se mi accompagnava in palestra ragazze perché c'è freddo voglio evitare di prendere freddo perché altrimenti veramente non me ne esco più tra mal d'orecchio insomma raffreddore quindi adesso mi sbrigo così lui viene a prendere e mi lascia lui anche se il tragitto è piccolo è veramente piccolo però sono quei cinque minuti che io mi ammazzo perfetto ragazze allora noi adesso ci vediamo quando torno dalla palestra perché vi voglio fare vedere il minestrone ultimato impiattato con olio formaggio e tutto quanto d'accordo ci vediamo tra un po ragazzi allora il minestrone a modo mio ok do una frullata così come vedete c'è sempre qualche pezzetto di verdura che rimane intera ok siccome qua siamo ad ebollizione butto giù la pasta io oggi sto buttando giù delle fettuccine tagliatelle come chiamatele come volete mescoliamo e ora aggiungerò un pochino d'acqua calda perché come vedete 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 è piuttosto asciutto quindi aggiungo un pochino d'acqua calda metto il sale perché finora me ne ho messo e cuociamo almeno 7 8 minuti il tempo di cottura delle fettuccine ragazze allora il minestrone a modo mio l'ho appena terminato quindi mettiamo un bel giro d'olio d'oliva e poi mettiamo un bel cucchiaio di formaggio grattugiato guardate che è buono in questo caso è grana ma voi potete mettere quello appunto con cui siete abituati a pranzare a questo punto buon appetito e ci vediamo domani buon appetito ciao